Oggi inauguriamo il primo porto lucano sullo Ionio dopo 2500 anni. Per il sindaco di Pisticci Michele Leone l'inaugurazione del porto degli Argonauti ha una valenza straordinaria e storica. Questa giornata io l'ho sognata vedendo arrivare Ulisse su una grande nave con l'armatura di Achille e il tricolore e proprio sulle basi della nostra storia e cultura a continuato Leone vogliamo fare di questo territorio un centro di propulsione per tutta la regione attuando una visione dello sviluppo ampia basata sul dialogo e sullo scambio. Un porto nel cuore del Mar Ionio al centro del Mediterraneo dunque per accogliere i diportisti in un mare nuovo poco esplorato e pieno di vita sulle rotte degli antichi greci e di Giasone. E' questo l'obiettivo del porto degli Argonauti inaugurato sabato mattina a Marina di Pisticci e situato all'interno della struttura denominata Argonauti Resort. Un progetto, quello realizzato con il nome Argonauti, così chiamato per volere del semiologo Omar Calabrese che ha tratto la sua ispirazione proprio dagli antichi greci. La storia è quella di Giasone e degli Argonauti, eroi che in un antico passato partirono alla conquista del vello d'oro guidati da un percorso intorno a se stessi. Il nome Argonauti sottolinea proprio il valore delle civiltà antiche che qui hanno vissuto ma allo stesso tempo suggerisce anche l'idea del viaggiare, dell'avventura e del mare. Il porto è un vero e proprio gioiello a giudizio dei progettisti e della società che lo ha realizzato, il gruppo Nettis, ma anche di un tecnico esperto in navigato come Cino Ricci, skipper di Azzurra, la barca che negli anni 80 avvicinò gli italiani alla Coppa America di Vela. La struttura, la prima per nautica da di porto nella costa ionica Lucana, ha numeri di tutto riguardo, sia per la spesa, che si aggira sui 30 milioni di euro, che per il numero di imbarcazioni che può ospitare, ben 440 di piccolo e medio capotaggio, anche di lunghezza superiore ai 30 metri. Il porto, attraverso un canale di accesso protetto da un avamporto esterno a moli foranei convergenti e con un'imboccatura di ingresso larghe 150 metri e profonda 4, si sviluppa in due darsene interne, lunghe 220 metri, larghe 140 e profonde fino a 3 metri e mezzo. I posti barca possono essere acquistati in proprietà, ovvero affittati per lunghi e brevi periodi. Fino ad ora ne sono stati prenotati 90 su 450. Si diceva della posizione geografica. L'essere al centro dell'Oionio, oltre che regalare suggestioni storiche e impareggiabili, dà la possibilità di esplorare un mare ancora incontaminato e pieno di fauna, con tratti di costa adatti a gite in barca o regate. Ma non è tutto, perché anche la struttura all'interno della quale il porto è collocato, il resort degli Argonauti, ha un ventaglio piuttosto ampio di offerte turistiche per tutti i gusti e le esigenze, oltre a regalare un ambiente che, nelle intenzioni dei progettisti, l'ingegnere Luigi Vietti e l'architetto Antonio De Nicolò, vuole vivificare l'architettura spontanea e naturale tipica dei piccoli paesi mediterranei. Ma il porto, oltre ad essere funzionale ed ospitale, è stato realizzato a detta della proprietà utilizzando colori mediterranei e naturali con una certa attenzione anche al rispetto dell'ambiente circostante. Per le opere foranee del porto è stata utilizzata esclusivamente pietra naturale. È stata creata, nel territorio circostante, un'area integrata in cui prevale il verde e la natura. Dei 1500 metri quadrati su cui si estende il resort, solo 300.000 sono edificabili, ma tornando alla nuova struttura, numerosi sono i servizi offerti, dalla videosorveglianza all'assistenza agli ormeggi, dai pontili fissi alle infrastrutture nautiche, dal vario delle imbarcazioni alla manutenzione dei natanti e tanti altri servizi per il turismo, lo sport e la pesca. Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti l'azionista di riferimento della Nettis Resort, Giuseppe Nettis, il sindaco di Pisticci Michele Leone, Antonio De Nicolò, consigliere di amministrazione della Nettis Resort e progettista della struttura pisticcese, Monica Strippoli, del team degli Ergonauti, Paolo Contini, ingegnere e progettista, oltre al citato Cino Ricci, testimonial d'eccezione. Ma il parterre ha visto anche la presenza dei senatori lucani Cosimo Latronico e Maria Antezza, del governatore lucano Vito De Filippo e dei consiglieri regionali Pasquale di Lorenzo, Tonino Fierro, Innocenzo Loguercio, oltre a quella delle autorità civili, il prefetto di materia Giovanni Francesco Monteleone e religiose, il vescovo dell'arcidiocesi di materia Irsina, Salvatore Ligorio, nonché numerosi altri rappresentanti della politica locale. Dopo la conferenza stampa c'è stata l'inaugurazione vera e propria, come si addice ai grandi avvenimenti, suggellata dalla pioggia ad intermittenza, che, come ha sottolineato la Strippoli, ha fatto da perfetto contorno al matrimonio tra terra e mare, come da buona ed antica tradizione.